Evitate le bevande zuccherate ed evitate le carni lavorate. Le bevande zuccherate sono associate ad obesità, che è un fattore di rischio per il cancro, ma si vede anche che i malati di cancro che bevono bevande zuccherate non ha prognosi peggiore. Cancro ama molto lo zucchero. Per vivere una cellula tumorale ha bisogno di 20-30 volte più glucosio delle cellule normali. Teniamo la glicemia bassa, che è la glicemia alta, ma all'interno dei valori cosiddetti normali si ammala di più di cancro e si è avuto un cancro a più recidive. Siamo prudenti, teniamo bassa la glicemia, riduciamo tutti quegli alimenti che fanno aumentare molto la glicemia, che sono il pane bianco, le farine raffinate, molti prodotti industriali, snack, dolciumi, le patate, che è una dieta ricca di tutti questi alimenti, squilibria e si ammala di più. Il digiuno è fondamentale. Noi siamo passati dal digiuno a dieta minima digiuno perché abbiamo visto che tutte le cose storiche, basta, fanno tanto bene quanto danno. Dicevamo 10.000 anni fa facevano questo. La minima digiuno invece è stata sviluppata da noi proprio per andare a capire cos'è che fa bene e come. Quindi insomma dura dai 4 giorni ai 7 giorni, dipende che terapia stiamo cercando di implementare. Per esempio per il cancro è una dieta minima digiuno che dura 4 giorni, per le persone ormai ne dura 5, per le persone con autoimmunità la stiamo testando in vari studi clinici e ne dura 7. Iniziamo a pensare che la cosa principale che faccia è che sia veramente una sentinella, che riesca a capire cosa nel corpo funziona, distruggerlo e poi capire che cosa va attivato per sostituire quello che era danneggiato e andava distrutto.